Questa sera vi dicevo parleremo di nuove infezioni emergenti oppure riemergenti e poi parleremo di chirurgia rigenerativa per ferite difficili. In studio per voi ci saranno prima il dottor Paolo Fazzi e poi il dottor Gustavo Velasquez disponibili a rispondere anche alle vostre eventuali domande. Vi ricordo i numeri di telefono 0871 58 73 232 58 73 233 oppure potete scrivere all'indirizzo mail salutechioccioarete8.it. Parliamo subito di nuove infezioni emergenti o riemergenti, lo faremo grazie alla competenza del dottor Paolo Fazzi. Buonasera e bentornati ai nostri studi professore, direttore unità operativa complessa microbiologia e virologia della Asli Pescara, posso dire vecchio amico di questa trasmissione? Come no, certo che sì. Ha sentito il professor Pregliasco? Sottoscrivo tutto quello che ha detto. Tutto, proprio tutto. Stavo per pensare che si era dimenticato dell'uso della mascherina, ma alla fine ha detto pure quello. Si è accesa la lampadina. Si è accesa la lampadina e quindi bisogna fare come ha detto il professore, vaccinarsi, farsi i controlli con i tamponi e laddove si può mettere la mascherina. Questo virus c'è ancora, è ancora un po' cattivo, più buono rispetto a chi l'ha preceduto, ma è ancora cattivo. Dobbiamo convivere, la specie umana conviverà ormai per sempre con questo virus che gradualmente diventerà sempre più buono, però secondo me ci vorranno ancora degli anni, per cui sarà prudente in autunno rivaccinarsi perché i fragili potrebbero pagare un conto molto salato. Grazie dottore, con lei però parliamo di nuove infezioni emergenti, anche di quello che ci ha insegnato o ci avrebbe dovuto insegnare il Covid. Le chiedo subito, le variabili del clima svolgono un ruolo chiave anche sul rischio di nuove epidemie? Sì, perché ci sono delle evidenze scientifiche, in base a queste evidenze si è visto che ci sono dei microrganismi, in particolare dei funghi ad esempio, che si sono adattati alle temperature più alte. Bisogna fare un discorso relativamente ai funghi, un discorso un po' particolare. Nel Cretaceo inferiore i funghi, che sono principalmente dei fitopatogeni, improvvisamente si sono trovati ad avere una scarsa disponibilità di piante e quindi si sono modificati per essere più aggressivi nei confronti degli animali. Ora, c'è qualcuno che dice che la famiglia dei mammiferi esista grazie alla pressione selettiva esercitata da questi funghi, perché i mammiferi sono animali omeotermi, cioè animali che vivono costantemente a temperature, a seconda delle specie, tra i 30-31 gradi e i 42 gradi. I funghi patogeni sono pochi, fortunatamente. Guarda caso, quelli patogeni, e parlo soprattutto dei funghi di morfi, riescono ad infettare l'essere umano che vive a 37 gradi. La stragrande maggioranza dei funghi, parliamo di probabilmente tra un milione e mezzo e due milioni e otto di specie di funghi, non ne conosciamo solamente 148 mila, solamente, 148 mila, di cui solamente 600 ha dato patologia nell'essere umano. Perché solamente 600? Perché questi funghi non riescono a svilupparsi a una temperatura superiore ai 30-31 gradi. Ecco, la pressione selettiva esercitata su un gruppo di animali che poi si è evoluta, ed è evoluto, è evoluta sì, e poi ha dato praticamente l'inizio allo sviluppo di una famiglia che poi ha dominato il mondo, che è quella dei mammiferi. Ora, quindi, in base a queste cose, è successo che con l'aumento della temperatura, con il cambiamento climatico, alcuni funghi sono diventati più termotolleranti e sono riusciti ad infettare alcune specie animali. Tra i mammiferi, ad esempio, c'è un fungo che si chiama Pseudogimenoascus destructans, che negli ultimi anni è riuscito ad infettare da una patologia che si chiama White Noose, cioè naso bianco, delle famiglie di pipistrelli del nuovo mondo, e praticamente già sono 10 o 15 specie distrutte, annientate, da questo fungo. Ed è un grosso problema anche per l'agricoltura, perché si tratta per lo più di pipistrelli che sono insettivori, con tutto ciò che ne consegue. E poi è successo anche per altri tipi di funghi, come Candida auris, tra poco ne parleremo. L'altro problema grosso dell'aumento della temperatura è che tutte le volte che aumenta la temperatura, c'è un maggior sviluppo di insetti e quindi di vettori. Ed ecco che allora abbiamo un maggior numero di patologie trasmesse da vettori, causate appunto dall'aumento, diciamo, esponenziale del numero dei vettori. Noi abbiamo titolato, come i nostri tre spettatori possono leggere in grafica, le nuove infezioni emergenti, però ci vorrebbero 10 puntate di Pronto Medicina Facile per trattare solo i più importanti. D'accordo con il dottor Fazzi abbiamo scelto di trattarne tre, la Candida auris, la dengue e la Toscana virus, il virus toscano che io non conoscevo e quindi ringrazio il dottor Fazzi perché ha arricchito anche un pochettino il mio bagaglio culturale. Candida auris, partiamo da questa dottore, è temibile, in passato ha spaventato il mondo e potrebbe tornare a spaventarlo ancora? Allora diciamo che sta spaventando il mondo perché fino al 2009 noi non conoscevamo questa nuova specie di Candida. Nel 2009 un gruppo di autori giapponesi ha dimostrato appunto la presenza di questo nuovo fungo, di questa nuova specie di lievito, Candida, da un'infezione di eromotite esterna in un soggetto ricoverato in un ospedale di Tokyo. Quindi per questo motivo ha preso il nome di Candida auris. Però in realtà probabilmente è un fungo che già era presente come tale patogeno per l'uomo già dalla seconda metà degli anni 90 perché i coreani in pratica avevano dimostrato la presenza di un fungo che poi in realtà hanno successivamente identificato come Candida auris già dal 1996. Quindi diciamo ed è un fungo pericoloso perché si accanisce con i fragili come sempre ma è pericoloso soprattutto perché tende a sviluppare delle resistenze agli antimicodici. Si accanisce con i fragili e l'altro grosso problema è che è un fungo che riesce a colonizzare l'ambiente, in particolare gli ambienti ospedalieri dove ci sono i fragili. Il problema è che è un fungo resistente agli antimicodici quando questo fungo dà una setticemia, quindi un'infezione del torrente ematico essendoci poche armi a disposizione si è visto che dal 30 al 60 al 70% dei soggetti con candidemia da Candida auris viene morto. Sono problemi sì. Andiamo avanti, eccolo qua, qua c'è un po' la fotografia la diffusione attuale. Il blu è diffuso nel mondo, quindi praticamente... Come vedete anche in Italia, il primo caso a Genova nel 2019 vi dico pure una cosa che sto valutando in Italia poi vedremo ci sono 300-400 casi proprio in questi giorni probabilmente abbiamo isolato Candida auris ovviamente ci sono dei problemi identificativi dovrò mandare il CEPPO al centro di riferimento nazionale che sta in Cattolica, al Gemelli e quindi purtroppo possiamo dire che molto probabilmente è arrivata anche l'Ambruzzo. Andiamo avanti, Danilo che saluto, non l'ho presentato prima il bravissimo Danilo Cinquino in regia questa è un po' la situazione italiana Sì, questi sono i bollettini che messi dal... Però ci manca il cerchietto di Pescara No, ma questo è un bollettino precedente adesso siamo in attesa del nuovo bollettino praticamente... Quindi l'avete isolata proprio in questi giorni? Dieci giorni fa Dieci giorni fa Da l'orecchio di un paziente con un'infezione in cinquantenne Questo significa che? Questo significa che è arrivato pure da noi come vedete là da quei cerchi diciamo in rosso Mettiamo a tutto schermo la diapositiva così la vediamo meglio Ecco, si vede bene che l'area in Italia... Siamo nella Liguria di Levante mi sembra che... Sì, esatto Presidente da Genova verso la Spezia e poi ovviamente in Emilia Romagna Emilia Romagna e poi in Piemonte e poi qualcosa anche in Veneto rare segnalazioni in Toscana rare nel Lazio e probabilmente c'è questa segnalazione abruzzese Quindi dovranno aggiornare... Sì, il primo caso italiano c'è stato un cluster importante proprio nella città di Genova e oramai abbiamo circa un 380-400 casi identificati come tali come candida auris in Italia Come si trasmette, dottor Farsi? Si trasmette prevalentemente per contatto e di fatti in ospedale il problema qual è? Il contatto che si può avere tra le mani di un operatore sanitario è il paziente o il paziente stesso perché tra l'altro colonizza molto bene la cute e i controlli vanno fatti in particolare a livello dei cavi ascellare del linguine e quindi il paziente può anche autotrasportare diciamo questo lievito in altri siti diciamo cutanei oppure nel cavo orale e ovviamente si parla di soggetti fragili e quindi di conseguenza poi step by step il passo successivo può essere un'infezione disseminata Sì, questo però, la trasmissione, il contagio il paziente 0 diciamo o il paziente 1 come la becca, come la prende? La prende per un contagio interumano interumano o ambientale Quindi potrebbe... C'è stato in Inghilterra c'è stato un outbreak in Inghilterra dove in pratica avevano visto che il passaggio in un ospedale inglese era causato dai termometri quelli diciamo praticamente che vengono usati come sotto il cavo ascellare e non vengono... Per misurare la temperatura Per misurare la temperatura Non vengono disinfettati più di tanto Porca miseria Quindi diciamo che il rischio è soprattutto ospedale Quali i fattori e le cause principali? Allora, innanzitutto bisogna dire che c'è stato un cambiamento ambientale legato appunto al clima e diciamo in questo... questa candida probabilmente se ne stava buona in una zona remota del mondo qualcuno ha detto In vacanza Se in vacanza dall'isole Andaman ad esempio qualcuno c'era un lavoro sul candida Auris Trovatris Andaman praticamente che stanno in India e dato che è termotollerante ma anche osmotollerante quindi viveva bene nelle zone salmastre dove era in pratica si approfitta delle piante dalle piante si è piano piano adattata agli uccelli ai volatili che da lì ovviamente sono andati in altre aree rurali dove c'è stato come sempre capita l'incontro fra volatili selvatici e quelli domestici da quelli all'essere umano l'urbanizzazione e quindi i candida Auris è arrivati anche in città ma probabilmente è stato il primo microorganismo scientificamente provato e evolutosi per il cambiamento del clima Anche in questo caso si parla di salto di specie? No In questo caso no Possiamo stare tranquilli Dottor Fassi Possiamo stare tranquilli relativamente perché se sei un fragile adesso si sta diffondendo un po' ovunque è un farmaco che è resistente a diverse classi di antimicodici comunque quelli che vengono utilizzati È un fungo è un fungo resistente Sì sì è un fungo resistente Diceva farmaco resistente no dico è un fungo È un fungo resistente Sì sì è un fungo resistente a questi iniziatutto al fluconazzolo che è il farmaco di prima scelta per quanto riguarda la specie candida solitamente si comincia con il fluconazzolo e fortunatamente è ancora abbastanza sensibile a una famiglia che si chiama diagnosi eppure qui ci sono dei problemi perché i sistemi diagnostici non sono attualmente troppo performanti per questa specie particolare di lievito e quindi la giusta adeguata terapia Diagnosi analisi del sangue che si fa? Analisi la ricerca della candida ma sapere identificare bene candida auris in questo momento ci potrebbero essere dei problemi perché anche i sistemi più evoluti identificativi e parlo quindi della spettrometria di massa il famoso Malditov che ormai tutti quanti conoscono potrebbero avere problemi identificativi così come ce li hanno i sistemi convenzionali identificativi e quindi il sistema migliore si sta evolvendo questa possibilità di diagnostico un po' ovunque e la metodica molecolare che anche per questo tipo di fungo è il gold standard diagnostico quindi si è stati bravi a isolarla e a riconoscere assolutamente simile lei prima parlava di candida auris in vacanza persa in qualche parte del mondo qualcuno l'aveva sbagliata c'è la delega che evidentemente sta guardando la trasmissione che ci ha appena scritto prima di Natale partirò per Curacao o Curacao non so come si pronuncia dove ho letto ci sono molte zanzare il dottor Fazzi cosa mi consiglia è alto il rischio di infezione può bastare solo un repellente tropicale Curacao penso che siano posti caldi il repellente è sicuramente un ottimo sistema per poter tornare contenti dalle vacanze e senza beccarsi troppe punture di zanzare parliamo di una zona dove ci sono zanzare appartenenti al genere edes poi se ne parlerà insomma che è un gruppo di zanzare capace di portare molte infezioni soprattutto di tipo virale siamo a Natale ce l'abbiamo ancora anche noi le zanzare ce n'è ancora qualcuno in giro fortunatamente sempre meno parliamo di dengue dottor Fazzi può essere considerata un rischio per la salute pubblica e quanto è diffusa oggi nel mondo poi vediamo qual è la situazione in Italia anche perché in Italia ci sono stati anche dei casi mortali anche piuttosto un caso mortale allora la signora Adele dice che va in una zona diciamo tropicale e pensa e pensi no voglio dire tanto buone vacanze e pensa di correre un ipotetico rischio ed è anche già ormai in Italia quindi voglio dire basta andare a Roma non in questo periodo perché le zanzare non girano tanto in questo periodo però quando si sveglieranno meglio non loro ma la loro discendenza la loro prola e quando avranno la possibilità di diventare zanzare adulte ovviamente c'è il rischio ancora a Roma di avere un'epidemia autoctona il problema è questo allora abbiamo avuto abbiamo avuto questa è tutta la dengue la dengue che è un virus RNA un flavivirus ed è in Italia in Italia il vettore è ed è il salbopictus che è poi la famosa zanzara tigre ormai presente su tutto lo stivale da due tipi di problemi una patologia diciamo così più leggera per modo di dire che comunque è sempre una patologia importante con rash febbre dolori articolari eccetera eccetera e solitamente nei soggetti che si reinfettano può dare invece una forma emorragica grave con forme emorragiche non solo sulla cute ma come si vede anche negli organi interni e quindi è un problema di sanità serio soprattutto adesso che diciamo per turismo o per lavoro si gira veramente il mondo in poche ore l'agente esiologico è la Edes albopictus che è come quella zanzara che vediamo quella zanzara che sta a destra io la sinistra invece Edes Egipti perché ho messo Edes Egipti Edes Egipti finora in Europa si trova solamente in zone molto molto limitate poi vedremo anche la cartina diciamo dell'Europa in cui si evidenzia la presenza di delle zanzare di questo tipo di zanzare solo il problema che Edes Egipti è un ottimo vettore migliore vettore di virus dengue e prima o poi probabilmente con il riscaldamento globale eccetera farà capolino in maniera seria anche da noi però già abbiamo Edes albopictus che già comunque sa fare il suo mestiere è il miglior vettore per esempio di Cicungunia Edes albopictus andiamo avanti con le diapositive Danilo perché questa credo questa è la situazione sì questa è la situazione era quella sopra quella dieci anni fa e quella attuale come vedete ci sono segnalate anche altre aree appunto per il riscaldamento globale altre aree e purtroppo in Italia si sono realizzate dei cicli autotoni cos'è successo fondamentalmente che delle persone che per turismo per viaggio per lavoro sono tornate in Italia con il virus in Italia c'è il vettore giusto che è Edes albopictus sono state punte Edes albopictus appunto altre persone che in viaggio all'estero non ci erano mai state si sono ammalate non tutte si ammalano le persone però si sono ammalate e quindi hanno poi generato un cluster locale dove nella provincia di Lodi a partenza dalla Castiglione e D'Ande andiamo avanti con la diapositiva Danilo perché ecco qua questa qua praticamente provincia di Lodi poi provincia di Roma ma più che provincia di Roma c'è stato solamente un caso due ad Anzio tutti gli altri casi parliamo una quarantina di casi sono state nella città di Roma dove si sono creati dei focolai autoctoni di dengue adesso penso e spero che siano stati spenti perché ovviamente quando lo sai cosa fai? fai un'azione importante di disinfestazione e quindi per cercare di eliminare i vettori e poi ci sono stati due casi autoctoni nella provincia di Latina poi ci sono stati i casi importati sono alcune centinaia con un decesso mentre invece i casi autoctoni non hanno generato fortunatamente nessun decesso andiamo avanti c'era un'altra diapositiva che riguardava senza l'Italia vabbè questa è praticamente la situazione italiana relativamente all'andamento vediamo in pratica che innanzitutto i soggetti di sesso maschile sono diciamo maggiormente interessati rispetto a quelli di sesso femminile e diciamo un cluster che sono questi cluster che sosservano tipicamente nei mesi in Italia soprattutto a forma autoctone nei mesi caldi perché c'è una maggiore circolazione di zanzare certo quindi con la diapositiva successiva vediamo anche quanto sono determinanti le condizioni climatiche ecco questa praticamente è una mappa che ci dice in rosso vediamo in pratica la presenza di zanzare appartenenti al genere Edes il genere Edes fino a qualche tempo fa non era una zanzare europea quindi non ci doveva stare poi ci sono altre immagini che ci dimostrano invece ecco ci dimostrano praticamente la prevalenza dell'ecologia della zanzara Edes Albopictus che è praticamente quella la prima nel riquadro superiore a sinistra vedete come l'Italia in pratica ce l'abbiamo tutta ce l'abbiamo tutta anche qui da noi poi invece ecco Edes Egiptica e lo spauracchio come vedete solamente nella zona in una zona del l'altra del Mar Nero dove è presente in basso Edes Egipte la peggiore mentre invece queste due sono ormai arrivate in Europa anche in Italia potrebbero spaventarci però fortunatamente preferiscono il freddo tant'è che si vede questa è la Iaponicum che si sviluppa in Italia questa è la Iaponicum che si sviluppa nelle zone vedete in Italia dell'arco alpino e non sotto perché le larve non riescono non riescono praticamente a svilupparsi a una temperatura superiore a 30 gradi quindi prediligono le zone più fredde l'altra è la Coreicus quindi quella coreana e pure questa predilige le zone più fredde perché sono pericolose tecnicamente sono dei vettori di encefalite giapponese e a noi a sto punto questa cosa non ci interessa più di tanto ma sono anche dei discreti vettori di dengue ok però voglio dire solitamente si sviluppano nelle aree più fredde senta per la cura esistono specifici antivirali? no per dengue ci sono degli antivirali in sperimentazione antivirali che agiscono hanno come target l'RNA polimerasi oppure alcune proteasi virali ma sono in sperimentazione c'è una fase definiamola così ancora di sperimentazione del vaccino perché il problema del dengue è che c'ha 4 barra 5 serotipi genotipi e in pratica se tu ti ammali di un genotipo e poi ti riammali dell'altro genotipo quindi se tu ti fai il vaccino rischi addirittura di peggiorare la situazione perché si sviluppa una sintomologia emorragico trombotica che ha diciamo un quadro patogenetico del tutto simile a quelle vaccinazioni che si sono fatte con per il covid con adenovirus due parole le vogliamo spendere per la cicungugna per la febbre del nilo la febbre del nilo ormai in italia da tanto tempo fortunatamente in abruzzo non ci sono mai stati dei casi segnalati è una patologia che dà una encefalite fortunatamente un caso su 150 soggetti infetti sviluppa questa encefalite che però può essere letale e quest'anno nel nord d'italia nelle zone rurali purtroppo abbiamo avuto numerosi casi alcune letali e qui invece c'è la gente il vettore principale e il cool experience che sarebbe la zanzara nostra e ce l'abbiamo e ce l'abbiamo poi invece per quanto riguarda zika casi di importazione cicungugna casi di importazione adesso sono molto attento perché devo impararmi il toscana virus che non avevo mai sentito prima che me ne parlasse il dottor Fazzi intanto perché si chiama così immagino perché è stato scoperto è stato scoperto in provincia di Grosseto nel 1971 dal professor Dianzano quindi fresco fresco però del 71 al professor Dianzano in un flebotomo in un flebotomo era un flebotomo perniciosus che poi come vedremo è il principale che vediamo si sono quattro i vettori allora il perniciosus è quello in cima diciamo poi c'è il flebotomus perfilievi che è presente anche in Abruzzo poi abbiamo il quindi ce l'abbiamo la nostra versione ce l'abbiamo ma ce l'abbiamo anche perché il perfilievi ma anche il perniciosus sono i principali vettori di lesmania infantum la storia poi un giorno magari se ne parlerà la storia della lesmaniasi italiana sia quella cutanea che quella viscerale si è fatta in Abruzzo i primi studiosi avevano avevano individuato queste forme in Abruzzo il termine censo che è un neologismo presente sui dizionari della lingua italiana è un neologismo che deriva da un termine pescarese lo dico in dialetto l'ucens perché veniva l'incenso perché veniva il bottone d'orriente si chiama così la lesmaniosi cutane veniva fatta bruciare da dei praticoni dei contadini con l'incenso da cui il termine lucenso è diventato censo complimenti intanto per la cultura che riesce a sforgiare starei delle ore ad ascoltarla torniamo però purtroppo ancora sei minuti Toscana virus come si manifesta e anche in forme gravi sì allora dobbiamo dire innanzitutto che Toscana virus si manifesta solitamente in maniera sintomatica come una flusindrome flu-like però quindi dolori febbre eccetera in una percentuale fortunatamente più bassa ci sono quelle cosiddette forme neuroinvasive si va da una meningite una meningite incefalite oppure un coinvolgimento dei nervi periferici tipo sindrome di chiambarre oppure una paresi del settimo del facciale il problema qual è? il problema è che noi in Italia ogni anno praticamente contiamo una cinquantina di forme neuroinvasive di Toscana virus ma sono fortemente sottostimate perché si pensa che nei periodi caldi l'80% delle encefalite al ligor limpido quindi quelle teoricamente a priori virale siano sostenute nell'80% dei bambini da questo virus e nel 50% degli adulti da questo virus quindi se non impariamo tutti quanti a diagnosticarlo ovviamente sarà sempre sottostimato è molto più frequente viene trasmessa dal flebotom in quali zone? nelle zone diciamo rurali ci sono delle immagini quella successiva credo che sia quella che eccola qua ecco qua allora questa è tutta l'area del Mediterraneo dove è presente ma anche non solo il Mediterraneo Asia Minore eccetera Afghanistan si va verso il Pakistan se Danilo allarga sull'Italia vediamo quali sono le due regioni praticamente l'Italia in pratica fino a poco tempo fa era solamente l'Italia peninsulare perché? perché il principale vettore è flebotomus poi hanno trovato Toscana Emilia Romagna ma perché? perché ci sono i migliori centri diagnostici d'Italia per quanto riguarda questo tipo di malattie ecco perché trovano parecchi casi in Emilia Romagna e in Toscana tra l'altro c'è una circolazione diciamo solo da qualche lustro di flebotomus perniciosus al di sopra della linea gotica perché prima non ci arrivava perché non perché il perniciosus gradisce il caldo il riscaldamento globale ha fatto sì che questo vettore si è arrivato oltre e quindi in quelle zone là abbiamo cominciato ad osservare sia forme neuroinvasive di Toscana virus e forme anche non solo cutanee ma soprattutto viscerale di lesmaniosi fino a 15-20 anni fa la lesmania si fermava all'isola d'Elba e a Rimini perché perniciosus non arrivava dieci anni fa è stata diagnosticata una lesmaniosi viscerale nella città di Aosta perché ormai perniciosus si è arrivato oltre hanno il passaporto ovunque e ci dobbiamo preoccupare di questo aspetto di vaganti perché non cresceranno in futuro i casi allora il problema è questo che c'è sempre stato Toscana virus perché ci sono sempre stati i flebotomi nel centro-sud Italia adesso pure nel nord e il problema è sempre quello se io riesco ad individuare subito una patologia infettiva nella fattispecie con una pronta diagnosi riesco magari a prevenire sia con vaccino non ce ne sono sia con un comportamento congruo sia eliminando i foci dove ci sono questi flebotomi non ci sono terapie specifiche la terapia è sintomatica però una pronta diagnosi è sempre diciamo foriera di un risultato che è possibilmente positivo se uno riesce a riconoscere si potrebbe fare un abuso di farmaci per curare queste situazioni allora il problema allora antivirali non ce ne sono in generale ma questo vale ad esempio per covid se io il Paxlovid non lo faccio per 5 giorni lo faccio solamente per 3 giorni oppure lo faccio per 5 giorni ma sottodosato posso più facilmente generare delle varianti virali ora non ci sono terapie specifiche abbiamo detto per Dengue e per Toscana però qualora un giorno dovessero uscire fuori dei farmaci antivirali è naturale che la terapia dovrà essere fatta in maniera congrua il problema è un altro pure che se tu poi non fai una diagnosi diciamo una pronta diagnosi e sbagli diciamo nel pensare che una sintomatologia sia causata ad esempio da un batterio cosa che succedeva per covid anche i virus danno un quadro settico ma dal 2017 si sa c'è il consenso internazionale che ha detto che i quadri settici possono essere anche causati da alcune famiglie di virus fra cui influenza virus HIV CMV virus e covid allora cosa succedeva che il quadro settico era portato da un virus ma i medici tra virgolette ignorantemente o per tante motivi avendo davanti un quadro settico davano una quantità industriale di antibiotici quando praticamente non ce n'era bisogno perché le emoculture erano negative perché il quadro settico era datato da un virus non da un batterio di un fungo e ciò ha generato o si pensa che abbia generato dopo il 2020 un aumento anche relativamente importante di MDRO o di multi-drug resistant organism per un uso smuotato incongruo di antibiotici e per questo le ho fatte questa domanda proprio perché volevo portarla a fare questo ragionamento 30 secondi il covid la pandemia ci ha insegnato qualcosa se dovessimo ragionare in un'ottica di nuove infezioni nuove epidemie legate al covid sì il covid allora io faccio il medico da quasi 40 anni abbiamo avuto due grosse disgrazie negli ultimi 50-60 anni l'infezione da HIV e l'infezione da SARS-CoV-2 che però a noi come comunità scientifica ci ha veramente insegnato tanto insegnato tanto e spero che l'infezione da covid da covid 19 abbia insegnato molto anche all'uomo della strada a livello comportamentale la consapevolezza che con le malattie e con le malattie infettive non si scherza siamo tutti vulnerabili e che siamo tutti quanti vulnerabili grazie grazie al dottor grazie a tutti complimenti per la sua cultura che spazia veramente ovunque mi è piaciuto molto quel riferimento che anche noi abruzzesi ci portiamo sulla coscienza con qualche cosa cos'era in diretto Lucenz grazie al dottor Paolo Fazzi direttore di Unità Operativa Complessa microbiologia e virologia ASL di Pescar adesso andiamo in pubblicità poi parleremo di ferite difficili grazie a tutti